ciao ciao oggi filmerò il video del mio trucco spero mi vediate bene allora il mio trucco quotidiano comincia con tonico e crema per il viso crema di farmacianese molto diffusa mia mamma porta l'insalata per la cavia allora adesso cominciamo con la base questo pennello di neve cosmetics spero non c'è troppo 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 pennello pulito e lo sfumiamo anche questo di neve cosmetics un po' meglio un po' meglio un po' meglio non c'è troppo non c'è troppo non c'è troppo non c'è troppo Grazie. Il correttore di cupo Extreme Cover. Allora, adesso... Applichiamo un po' di balsamo prima di... Questo è di un'altra formacia. Di Wonder Company di Alluronic. Così le labbra si ammorbidiscono. Ora, adesso... Prendo il temperino che devo temperare tutte le mazzette. Ok. 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 Un'imperino. 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 Mamma deve mangiare i pesci. Poveri pesci, poveri neo. Hanno fame. Allora, questo sono io con le sopracciglia. Che differenza. Allora, adesso... Cominciamo con gli occhi. Applichiamo... Applichiamo... La matita... Di Black Smoke di Astra. Un'imperino. Quello con la fisca. Il botone da un suge. Quanto con la fisca. E' tranquillante. Sfumiamola un po' per fare l'effetto smoky. Ok. Ovviamente non smoky smocky. però, un po' più smoglie come c'è scritto sulla matita, allora, adesso, un pescullo, spazutare con palette, XXL Shine di Essence che non si vende più, però va bene qualsiasi gloss trasparente che avete, in colore, non trasparente, in colore, sono due cose diverse, allora, applico il glitter, qua devo togliere lo stoppino, e se non li vedo il glitter, allora, vedete che effetto, questo è il numero 2 della NYX, dei glitter, che brillantezza, che luminosità, che visita. Ok. 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 Quindi il trucco è subito diventato festivo. Adesso... Adesso... Ciglia... Allora... Allora... L'eyeliner sta già finendo. Non vedo il prodotto su. Allora... Eccolo... Eccolo. 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 Eccolo, a questo punto, questo punto continuamente. Allora... Adesso... Eccolo... Eccolo, applichiamo le ciglia. Eccolo. Io non ne ho. Questo è tipo un pavampo classico, marrone però, fa le ciglia da cerbiato, mi piace molto. È una macchinata movimentata perché oggi dobbiamo andare all'ospedale a fare il campone. Allora, l'ultimo tocco ovviamente è il rossetto rosso, Ruby Woo di MAC. Questo è il mio trucco, è il mio trucco di questi giorni. Vedete, così sembra molto boom boom boom. Se metto gli occhiali, i glitter si vedono un po' di meno, però si vedono. Quindi, ecco il trucco. Grazie di attenzione, ciao ciao. Grazie. Grazie.